Esiste una linea incredibilmente sottile tra la ragione e la pazienza. E' endemica di tutte le culture. Il professor Mackles. Posso aiutarla? Lo spero. Ha mai sentito il termine multi-detective? No. Esuru significa medicina, ma ha anche un significato più oscuro. Mi chiamo Telly. Mi piacciono i tuoi occhi. Uomini d'affari, politici, le persone che pagano per il muti sono alla ricerca di successo personale. Non mi serve il suo aiuto. È lei che ha bisogno di me. Ma ferma chi sta giù! Il sangoma preleva gli organi che gli interessano, mentre la vittima è ancora viva. Più intensi sono le urla, più grande è il potere del muti.